Guarda che polchetta che ci hanno messo dalla regia, vuoi ballare Rosetta? Ci sto ballando? Andiamo? Allora continuate a interagire con noi al numero 3, 2, 7, 6, 6, 6, 8, 2, 2, 0 Gli amici di Chi balla e Chi canta siamo qui per questo grande finale Ci sono venuti Rosetta a trovare grandi gruppi storici Perché è partito il carnevale, è partito il carnevale Tu vai a festeggiare il carnevale E abbiamo il gruppo storico di Sciationa A cui noi facciamo un grande applauso Eccolo qui, guarda che costumi Guarda qua E poi abbiamo il gruppo storico di Piscina Eccolo qui E poi abbiamo il gruppo storico di Biella Facciamo un applauso Guarda facciamo un'inquadratura Regia, Rosetta vai Guarda regia, facciamoci un applauso Guarda che bei costumi che abbiamo qui E allora chiudiamo con una polchetta in bellezza Sì, balliamo una polchetta La ballate, siete d'accordo con noi? Ballate? Via la polca in studio Vamos! Grazie a tutti! 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 Appuntamenti di chi balla e chi canta da lunedì al venerdì, non perdete ogni singola puntata perché per me è importante essere in contatto con voi, da lunedì al venerdì per la Valle d'Osta canale 13, rete 7, per il Piemonte video nord 83 alle 14 alle 19, per la Lombardia alle 19 soltanto con il canale 86 e per la Liguria il canale 83 alle ore 19. La Valle d'Osta invece va in onda alle 14 e 20 alle 19 e alle 21 in grande prima serata per voi, per gli amici di chi balla e chi canta soltanto la grande musica e la grande orchestra italiana per voi. La giovinezza gli donna e trova la felicità e balla!